Nella prossima primavera saranno diversi i comuni che torneranno al voto per le elezioni amministrative e tra questi c'è il comune di Silvi. Proprio su questo fronte il coordinatore regionale della Lega Luigi Deramo ha annunciato che Andrea Scordella, primo sindaco del Carroccio in Abruzzo, sarà riconfermato alla guida della coalizione di centrodestra per le comunali 2023. Ce l'aspettavamo, un ottimo lavoro era stato fatto da questa coalizione di centrodestra, naturalmente si è voluto premiare anche il merito del primo cittadino. Io sono convinto che il lavoro che abbiamo davanti e soprattutto per il prossimo mandato sarà un lavoro difficile. Ricordiamoci che comunque siamo partiti da un disavanzo di 9 milioni, siamo arrivati a pareggio di bilancio, abbiamo sbloccato opere ferme negli ultimi 10 anni e soprattutto un piano di investimenti anche in previsione del PNRR di circa 15 milioni di euro. Una scelta, quella della candidatura bis di Scordella, arrivata e addetta del coordinatore regionale del Carroccio a seguito dell'ottimo lavoro portato avanti in questi anni di amministrazione comunale. Siamo usciti dalle sabbie mobili, il periodo storico, economico e sociale non ci ha aiutato, ma abbiamo affrontato tutte queste battaglie con la serietà, la concretezza, i risultati si iniziano a vedere e adesso abbiamo soltanto da programmare il futuro. Sono diversi i punti fissati per il futuro del comune di Silvi, su cui il sindaco Scordella è già al lavoro. Noi abbiamo di fatto l'area metropolitana di Chiedipescara che spinge da nord, con l'apertura del nuovo ponte avremo una crescita demografica esponenziale, abbiamo bisogno innanzitutto di fare opere infrastrutturali importanti, ricordiamoci il problema dell'autostrada 14 con la SS16 che ha necessariamente bisogno di una variante, una variante 16 che è già inserita nel piano triennale delle opere strategiche sia regionali che nazionali, va portata a compimento come va portato a compimento anche un lavoro di valutazione con ferrovie per lo spostamento e l'arretramento della ferrovia, del tratto adriatico. Oltre questo noi siamo stati esclusi negli anni per una questione di cattiva gestione della ZES, zona economica speciale, noi siamo nell'area metropolitana, ci divide pochi metri e naturalmente la battaglia sarà anche una riperimetrazione della ZES perché abbiamo bisogno di un futuro diverso che non è solo quello turistico ma anche economico.